Siamo venuti in questa rappresentazione per documentare tutti i danni che ha subito la scuola dal momento del terremoto, quindi praticamente tutto danneggiato, poi sono state riportate anche tutte le opere che sono state fatte e le nuove costruzioni che poi sono risultate anche di una certa importanza, tipo una palestra nuova, una sala riunioni nuova e delle ristrutturazioni che sono state fatte all'interno dell'azienda agraria che è sempre del Calvi ed è praticamente un'azienda di tipo didattico dove gli studenti di agraria fanno delle prove pratiche.